Dove sono sprecati? Il nostro Presidente della Repubblica, oh guaglione, ci costa 242 milioni all'anno, c'ha tre Maserati, non riesce neanche a metterci una caviglia nella Maserati. Hanno decine di giardinieri, Vatican Palace ha quattro giardinieri, noi decine. La regina ha detto ma che piante esotiche dovete avere voi in Italia. Allora andiamo a prenderli, 3 miliardi di rimborsi elettorali, basta. Si finanziano come ci finanziamo noi, chiedendo i soldi, 2 euro, 3 euro, perché loro dicono come si fa a fare la politica senza soldi e noi come l'abbiamo fatta, noi senza soldi siamo arrivati a essere la seconda forza oppure la prima forza del Paese. Megalomene, 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 qui megalomene, no no no, qui megalomene, al mio 3 megalomene, per favore, per favore c'è Canale 5 che ci tiene. Allora al mio 3 megalomene, 1, 2, 3 megalomene, perfetto.